Nell'ambito del progetto Faccia a Faccia col tuo pregiudizio, sono state presentate in conferenza stampa le sei iniziative di Biblioteca Vivente programmate sul territorio ed il sito di progetto paviarchivio.it che raccoglie l'archivio etnografico dell'identità pavese, un prodotto multimediale al quale tutti i cittadini, vecchi e nuovi del territorio pavese, sono invitati a contribuire. Cos'è la Biblioteca Vivente e chi sono i libri viventi? La Biblioteca Vivente è un metodo innovativo e molto semplice che offre la possibilità di conoscere delle persone che sono state vittime di pregiudizi. Quindi sono persone che in qualche modo sentono di aver vissuto una discriminazione e scelgono di essere formati e quindi mettersi a disposizione nel raccontare la propria esperienza. L'associazione Babele ha fatto la prima Biblioteca Vivente nel 2012 e all'interno del progetto Faccia a Faccia si è occupato proprio di formare i libri e i bibliotecari per far sì che potessero essere svolte queste sei biblioteche viventi. La Biblioteca, o meglio Human Library, nasce nel 2000 a Copenaghen e dal 2003 è ritenuta dal Consiglio d'Europa una buona prassi, quindi è necessario tutelare e diffondere questa iniziativa. All'interno del progetto Faccia a Faccia sono stati formati 20 libri viventi e saranno proprio loro quelli che all'interno delle sei biblioteche racconteranno in un rapporto uno a uno la propria esperienza ai lettori, quindi alla cittadinanza che sceglierà appunto di ascoltare il libro perché ricordiamo appunto i libri sono persone in carne e ossa quindi la biblioteca si svolge come una normale o meglio è una normale biblioteca quindi con un catalogo di libri con i bibliotecari ma appunto i libri raccontano, parlano, non devono essere sfogliati ma ascoltati. Da oggi è online il sito dell'assessorata delle pari opportunità che dà a tutti i cittadini la possibilità di pubblicare le loro storie e le loro biografie. Paviaarchivio.it è il luogo di tutti i cittadini pavesi. Vi invito quindi veramente calorosamente a mandare foto, video, ricette, filastroche, tutto ciò che ha fatto parte della vostra vita e che volete che rimanga alla città in quello che sarà davvero un archivio virtuale di tutti gli individui che in questo momento storico stanno vivendo nel nostro territorio. È un momento importante in cui ognuno di noi mette un pezzo di sé e avremo anche modo in questo modo di lasciare traccia delle nostre storie familiari che rischiano altrimenti di andare perse nella storia. Grazie. Il sito di progetto si chiama www.paviaarchivio.it. È online da oggi e raccoglie tutte le sezioni in cui si suddivide questo progetto. Quindi è possibile consultare il catalogo dei libri viventi, è possibile consultare l'archivio suddiviso in cinque sezioni ma soprattutto è possibile contribuire. C'è una parte apposita che si chiama contribuisce all'archivio e tutti i cittadini possono mandare dei contenuti.